E allora, come preannunciato, è tempo di primi collegamenti. Questa settimana vogliamo iniziare col piede giusto, parlando di poesie, di racconti che ci aiutano non solo a dare valore al nostro tempo libero, ma poi a riflettere sulla bellezza che ci circonda. Abbiamo già in collegamento con noi la poetessa e scrittrice Sabrina Del Giudice, che vedo alla mia sinistra nel maxi schermo, vediamo se la sentiamo. Ciao Sabrina, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Bentrovata, grazie per il tempo che ci dedicherai stamattina per parlare delle tue opere. L'occasione è questa raccolta di racconti, donne, pagine dal cuore, che ci ha permesso di conoscerti. Però tu sei anche una poetessa prolifica, ecco, ma facciamo un passo per volta. Intanto la regia ci sta proponendo la copertina di questa raccolta di racconti, molto bella, tanto la copertina quanto la raccolta stessa. E poi questa è una foto che arriva direttamente dal mio desk, dove ho altri tuoi titoli, dei piccoli libretti, che però contengono tante emozioni. Come nasce questa tua inclinazione, chiamiamola così, per le parole, per la poesia, per i racconti? Allora, innanzitutto vi ringrazio e saluto tutti per questo collegamento, che è veramente una gioia per me stare in comunione con voi. Questa è la prima cosa. Poi come nasce? Io fin da ragazzina ho sempre scritto poesie, chi mi conosce lo sa. Ho deciso a tardetà di pubblicarle e così ho fatto, ho preso questo coraggio e poi sono andata avanti così, scrivendo quello che faccio ancora. Niente di che. Il coraggio non ha età ed è sempre una delle leve più forti, che ci spinge a superare un po' i nostri limiti. E da quello che ho potuto leggere direi che hai fatto benissimo. Tra l'altro, ecco, magari poi leggerò anche una poesia tra quelle che mi hanno colpito di più. Non le ho lette tutte, ma alcune sono molto belle. Intanto però vorrei soffermarmi sul tuo libro, sulla raccolta di racconti donne, perché la donna è una figura importantissima per la nostra società. Negli ultimi tempi giustamente si sta ponendo l'attenzione sulla sua figura, anche per purtroppo i tanti guasti che la nostra società sta vivendo. Guasti diciamo anche un po' paradossali, perché in Italia, in particolare nel mondo occidentale, viviamo una situazione di benessere, di pace. Ecco, ci sono tanti altri posti del mondo dove in questo momento ci sono problemi ben più gravi. Però tante volte purtroppo la cronaca ci restituisce notizie quasi mai confortanti da questo punto di vista. Le tue pagine diventano preziose perché appunto ci ricordano qual è l'universo di emozioni, di sensazioni, di sentimenti che ogni donna prova e restituisce al mondo con appunto i suoi anche gesti quotidiani. E in questa raccolta di racconti tu ci regali tante immagini, tante storie di donne che con i loro piccoli gesti quotidiani appunto regalano tanto di sé al mondo e alle persone che le circondano. Qual è la donna a cui sei più affezionata di cui scrivi in questa raccolta? Allora, il primo racconto è quello che ha dato diciamo il via a questa raccolta. Ah, e quindi per me Adele è la donna alla quale sono più affezionata. Il racconto si intitola Il viaggio e da lì sono partita per fare questo lungo viaggio nell'animo delle donne per entrare diciamo nel loro cuore, di entrare nelle loro esperienze, nel loro vissuto, nel loro sentire, nelle emozioni e nei sentimenti. Non è stato facile, però è stato davvero un lungo e grande viaggio, importante soprattutto per me, perché mi sono decentrata da me stessa per entrare appunto in queste esperienze. A volte raccontate, alcune sono storie anche raccontate da persone amiche o da persone che ho incontrato, da donne che diciamo, non dico mai per caso, ma perché è stato così la volontà di Dio che il Signore mi ha messo sulla strada. E poi così ho messo giù con la penna, prima con la penna ovviamente sempre, i miei pensieri e poi li ho raccolti per fare appunto, per condividere queste esperienze, per dare voce all'animo delle donne. A partire dall'infanzia, infatti in questi racconti ci sono anche ricordi di infanzia, ci sono dei collegamenti tra il passato e il presente e la vita che si rinnova comunque, perché in ognuno di loro, in ogni racconto, io ci tengo molto a sottolineare l'importanza della speranza, poter ricominciare sempre e riprendere in mano la propria vita partendo dalla propria esperienza per poi rifarne un capolavoro così come vuole il Signore. Grazie, molto bello questo messaggio. In studio con noi c'è anche Maria Pia Picciafuoco che è una grande amante dell'arte, della letteratura, del cinema, ma solo qualche istante fa, ricordandoci la ricorrenza del 2 giugno, faceva riferimento per esempio a quel film della Cortellesi che tanto ci ha dato in questi ultimi... Sì, ricordiamo il titolo C'è ancora domani. Esatto. C'è ancora domani, sì. Quanto è importante l'arte, la letteratura per veicolare questi messaggi. Volevo chiederti Sabrina, se posso, quando tu ti confronti con la grande letteratura, non ti faccio la domanda banale a chi ti ispiri, chi ti piace di più, perché è troppo banale, però quando ti confronti appunto con la grande letteratura, ti senti più consolata, spronata a continuare o intimidita? Oh, io non ho mai avuto una grande autostima, quindi semmai intimidita, però quello che mi caratterizza è il coraggio, non mi perdo d'animo, quindi comunque do a me stessa così come sono e non mi paragono. Ecco, abbiamo capito il tuo messaggio veramente importante e bello, perché ognuno di noi è diverso comunque, non saremo, se scriviamo anche appunto cinque righe, quattro versi, un sonetto, quello che è, o scrivere una canzone, magari Tony prima o poi lo farà, se non l'ha già fatto, è nostro comunque, è un fatto di un'unicità che appunto secondo me è una grande conferma proprio che esiste Dio, io l'ho sempre pensato questo. Sì, 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 e poi mi riaggancio a queste riflessioni perché è molto bello anche immaginare non solo la vita di ciascuno di noi, ma anche le nostre produzioni artistiche come piccole tessere che vanno ad arricchire quel meraviglioso mosaico che è appunto rappresentato dall'umanità. La vita di Sabrina a un certo punto la porta anche a San Giovanni Rotondo, faccio questo riferimento perché è proprio a San Giovanni Rotondo che nasce, se non ricordo male, il suo ultimo libro di poesie, Illuminarsi all'alba. Non so, Sabrina, se vuoi raccontarci della genesi di questa tua ultima raccolta di poesie. Sì, Toni, è una storia diciamo dolorosa che comunque ha portato anche questo frutto. Alla fine del 2022 sono stata per lungo tempo a Giovanni Rotondo per motivi di salute di mio marito ed è stato un momento buio, però ho avuto tanto conforto dalla presenza di Padre Pio, io non mi sono mai sentita sola, passavo dall'ospedale alla chiesa. Quella è stata la mia vita, l'intimità con Dio attraverso anche l'intercesso nel Padre Pio e la vicinanza a mio marito che aveva bisogno di me in quel momento. Scusate se mi emoziono. Comunque, ecco, durante le albe, io passavo le notti senza dormire, e quindi all'alba sollevavo la tapparella della finestra dell'albergo e ho fatto degli scatti dell'alba e da qui è nata appunto questa foto che è la copertina dell'ultimo libro. È nato il desiderio di raccogliere tutte le mie poesie a tema religioso dedicate al Signore, sia quelle più datate che quelle più recenti, alcune non sono appunto pubblicate e ho voluto raccoglierle per fare un omaggio al Signore, ringraziarlo e lodarlo per tutte le sue meraviglie, anche attraverso le tempeste della vita, perché Lui è comunque sempre presente, sempre con noi, non ci abbandona mai. Anzi, ancora di più ci è vicino. Grazie, grazie. È importante non sentirsi mai soli. E devo dire che ho avuto tanto conforto proprio lì a San Giovanni Rotondo. Grazie Sabrina per queste tue parole. La nostra chiacchierata giunge al termine, per cui noi ti salutiamo e una volta che ci siamo salutati, prima di dare la linea alla regia, leggerò una tua poesia appunto da illuminarsi all'alba. Per cui nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo per la tua testimonianza, sperando di ritrovarti presto. Io ringrazio voi. Sperando di ritrovarti presto, dicevamo. Bene. Vicino a voi. Anzi, lo so tutti i giorni, veramente. Torno dove non sono mai stata. Vado dove nessuno mi ha saputo indicare. Rivedo ciò che non ho mai visto. Guardo quello che i miei occhi non conoscono. Una valle, un guado, una cima, un fiume. Da ogni dove fuggo e torno a te, che conosco. Per andare lontano, più vicino al mio cuore. Lontano, Sabrina del Giudice, illuminarsi all'alba.